Salve a tutti ragazzi e bentornati su Cyberdojo. Oggi vedremo come realizzare lo schema di collegamento di un cancello automatico su Logosoft Comfort. Iniziamo subito. Avviamo il programma, andiamo su Nuovo schema o Ctrl più N e aprite il vostro schema di collegamento. In questo caso, come al solito, il programma l'ho già realizzato e vi mostro lo schema di collegamento già pronto. Ovviamente, tutti i blocchi e i collegamenti, come al solito, inserite nel link in descrizione. Cominciamo subito a vedere come funziona questo tipo di programma. Questo quindi è il nostro cancello. Come vedete è un normalissimo cancello a scorrimento chiuso con i due sensori di movimento. Cosa dovremmo fare per questo programma? Innanzitutto, siamo nella posizione di cancello chiuso. Questo cancello, a un certo punto, si aprirà. Quindi siamo in un stato di apertura e chiusura. E, ovviamente, andrà nello stato di cancello aperto. Dopodiché, dallo stato di cancello aperto, torna allo stato di chiusura-apertura e poi allo stato di cancello chiuso. Ci possiamo trovare anche nel caso dello stato in cui si attiva i sensori di movimento perché sta passando qualcuno o qualcosa. E quindi, in questo caso, siamo in fase di allarme e quindi si riattiva l'apertura del cancello automatico. Per poi, nuovamente, richiudersi, effettivamente. Quindi, cosa abbiamo? Cancello chiuso. Dobbiamo dare per il nostro programma un comando di apertura che permetta di aprire questo cancello. E quindi passare dallo stato chiuso allo stato di cancello aperto. Mentre il cancello si apre, dato dal comando di apertura, avremo un lampeggiante che si attiva. Questo lampeggiante rimarrà attivo finché il cancello non sarà completamente aperto. In questo caso, abbiamo deciso nel programma di usare un lampeggiante verde per indicare, appunto, l'apertura del cancello. Quando siamo nello stato di cancello aperto, se vogliamo richiudere, basta dare semplicemente un comando di chiusura. Quindi, per portare lo stato del cancello da cancello aperto a cancello chiuso. Stesso procedimento di prima, tempo di chiusura, questa volta abbiamo un lampeggiante rosso. Che rimarrà attivo, il lampeggiante, finché non sarà completamente chiuso il nostro cancello. Cosa succede se si attiva il sensore di movimento, come detto precedentemente? Automaticamente si riapre il cancello e quindi siamo in fase di allarme, quindi si attiva il lampeggiante arancione. Una volta terminato la fase del lampeggiamento arancione, il cancello sarà completamente riaperto e ritorniamo nello stato precedente. Quindi, dal cancello aperto, vogliamo chiuderlo e quindi automaticamente il cancello chiuso. Quindi, quello era lo schema di funzionamento del nostro programma, che è quello che seguiremo esattamente nello schema di collegamento in Logosoft Comfort. Come vedete abbiamo tre ingressi, ingressi digitali, quindi un comando di apertura, un comando di chiusura e il sensore di movimento. Abbiamo vari blocchi, quelli che ci interessano maggiormente sono appunto il lampeggiante apertura, con retroluminazione, questo qua abbiamo usato un bianco, però generalmente verde. L'uscita con il cancello aperto, il lampeggiante di chiusura, retroluminazione rossa, un'uscita digitale, cancello chiuso e un marker, ovviamente, con retroluminazione arancione per il sensore di lampeggio dell'allarme sensore. E tra gli altri blocchi abbiamo ovviamente una porta AOR, delle porte AOR. Abbiamo anche uno spegnimento ritardato, questo per poter avviare immediatamente il lampeggiante arancione in caso di allarme. Stessa cosa uno spegnimento ritardato per quanto riguarda il marker, sia dell'ampeggiante di chiusura che dell'ampeggiante di apertura. Dopodiché abbiamo altri blocchi, come il generatore di impulso asincrono, per sempre i tre lampeggianti. Comunque, avviamo subito la simulazione, quindi simulazione F3, e si avvia ovviamente il nostro testo di segnalazione, che possiamo trovare qui in alto, con un ingresso sempre attivo, doppio clic, ovviamente da un logo TD, come vedete, qui segnato una priorità a zero. E abbiamo inserito ovviamente, anche manualmente, come già visto nei video precedenti, in questo caso ciò che ci interessa è segnalare, quindi l'apertura del cancello, la chiusura e l'allarme in movimento. Come dato da inserire, abbiamo usato l'uscita del blocco funzionale, relativo che ci dà il segnale, e naturalmente siamo andati a cercarlo, in questo caso per l'apertura del cancello è il B018, nel caso di chiusura è il B016, nel caso di sensore di movimento è il B019, potete leggere tranquillamente qui. Ok, diciamo ok, e quindi questo è il nostro testo di segnalazione, per adesso lo lasciamo qui, e ovviamente vediamo di metterlo in un posto, eccolo qua, perfetto. Allora, avviamo la nostra simulazione, doppio clic, e come vedete si attiva il lampeggiante dell'apertura del cancello, abbiamo messo, mettiamo un attimo in pausa, e allora in questo momento si è aperto, il cancello risulta aperto, perché la nostra uscita è attiva, il lampeggiante si è attivato quindi con una luce discontinua, quindi generato da questo appunto generatore di impulsi, che abbiamo settato ovviamente con una lunghezza di impulsi 1 secondo, una larghezza tra impulsi sempre di 1 secondo. Questo generatore di impulsi si attiva quando si attiva questo spegnimento ritardato, che abbiamo impostato a 10 secondi, per esempio. 10 secondi ovviamente rappresenta il tempo che impiega il cancello d'aperto, quindi dallo stato appunto di chiusura, scusate, fino a raggiungere lo stato di aperto, cioè significa che è il tempo che impiega a partire da quando il cancello è chiuso, fino a raggiungere il fine corsa della parte opposta, in modo tale che il cancello sia del tutto. Quando il cancello raggiunge il fine corsa, come viene stabilito? Viene stabilito appunto dalla velocità di spostamento del cancello, quindi questo tempo di spegnimento, io ho messo 10 secondi in maniera indicativa, però chiaramente sarà dato dalla velocità ovviamente che è uguale a spazio per spostamento su tempo, quindi dalla formula inversa, quindi tempo uguale velocità per spostamento. Chiaramente vi trovate il tempo relativo che impiegherà il cancello per aprirsi. Questo sarà il tempo che dovrete inserire all'interno del vostro spegnimento ritardato. Dopodiché facciamo... ah, ok. Stesso tempo ovviamente abbiamo messo in caso di chiusura, quindi questo è impostato anch'esso spegnimento ritardato a 10 secondi. Per quanto riguarda invece l'apertura del cancello, cioè ovvero l'uscita che ci segnala che il cancello è aperto, abbiamo preimpostato un ritardo all'attivazione, quindi un ritardo all'attivazione con memoria, come blocco logo, sempre ovviamente con un tempo di 10 secondi pari a quello del timer dello spegnimento ritardato. Perché è uguale a 10? Perché appena si spegne questo, quindi quando noi accendiamo si attiva questo blocco, parte il countdown a 10 secondi, per 10 secondi questo lampeggiante si attiva, ci indica che si sta prendendo il cancello, al termine di questo timer automaticamente si accende questo. Questo blocco ritardo all'attivazione si attiva insieme a questo blocco spegnimento ritardato. Quindi per questi 10 secondi, qui avremo il lampeggiante attivo, per questi 10 secondi qua sarà spento fin quando al termine del timer non si attiva l'uscita del nostro ritardo all'attivazione con memoria. Bene, adesso che il cancello è aperto, vediamo cosa succede nel secondo stato, cioè vogliamo chiudere il cancello. Quindi questo lo rispostiamo nuovamente qui. Sperando che non ci dia passi troppo fastidio. Scusate, siamo in pausa. E avviamo e come vedete si attiva il lampeggiante di chiusura, segnato in rosso, e dopo i 10 secondi, come vedete sia di questo che di questo blocco, si attiva la nostra uscita che ci indica che il cancello in questo momento è chiuso. Vediamo cosa succede se riapriamo. Esattamente la stessa cosa. Terzo discorso se vogliamo richiudere. Vediamo adesso cosa succede se attiviamo il sensore. Ecco, come vedete si bloccano tutti i vari lampeggianti, tranne quella arancione che si attiva. In questo momento sta attivando anche il cancello aperto. Finito il lampeggiante arancione, si attiva il cancello aperto. Cosa abbiamo fatto? Come visto nello schema, nella diapositiva precedenti, quando si attiva il sensore in movimento, si deve riavviare automaticamente l'apertura del premottivo di sicurezza del cancello. Riavviando la simulazione, si attiva il sensore di movimento, metto in pausa un secondo, ecco qua. Come vedete, assoluto il sensore di allarme è già arancione, quindi è attivo. Ok, quindi come vedete questa porta XOR in questo momento sta attivando il reset di questo blocco e quindi l'uscita sarà disattivata e quindi il cancello non è chiuso. A sua volta questo è attivo. Questa porta XOR collegata al comando di apertura, questo è attivo. Come detto il reset di questo ritardo all'attivazione con memoria, il reset è non attivo perché è collegato al comando di chiusura che in questo momento è disattivato. Come vedete però, essendo attivo l'enable, cioè il segnale di trigger, scusate, del ritardo all'attivazione, si attiva il tempo di attivazione. Quindi si attiva il timer e fra dieci secondi, cioè il tempo che impiegherà il lampeggiante a spegnersi, ok, dieci secondi, eccolo qua, qui in basso a sinistra, questo cancello, questo segnale, scusate, questo segnale di uscita digitale si attiverà, e quindi sarà di indicare che il cancello sarà aperto. Riprendiamo. Ora fra due secondi, un secondo, ecco fatto. Come vedete, il lampeggiante si è spento dell'allarma e il cancello è aperto. Dopodiché, possiamo una volta il cancello è aperto, riavviare il comando, dando play, riavviare il comando di chiusura e il cancello comincerà a chiudersi, che non sarà chiuso, stabilito dall'uscita cancello chiuso. Vediamo riavviare, riaprire, ecco che riparte il processo di riapertura, e così via. Bene ragazzi, questo per oggi è tutto. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di condividere il video, di mettere un like e di mettere la spunta sulla campanella per rimanere aggiornate sulle prossime uscite del canale. Questo è tutto, un saluto, alla prossima. Ciao!